Ciao, bentornata sul mio canale. Benvenuto in questa lezione di Pilates, Cardiopilates. Perché Cardiopilates? Perché ci sarà un esercizio dopo l'altro e non andremo a fare il recupero. Il recupero sarà alla fine di tutti gli esercizi che faremo, sarà un recupero breve e poi andremo a ripetere tutti gli esercizi. Ovviamente proprio per questo motivo questa pratica non è consigliata a chi non ha mai fatto Pilates. Puoi trovare tantissime pratiche per chi vuole iniziare, per chi vuole fare i primi passi con il Pilates su questo canale, così come nel mio corso Pilates con Denise, ti lascerò sotto la descrizione nei commenti. Quindi prepara il tuo materassino e preparati a questi 20 minuti di allenamento insieme. Iniziamo con la schiena a terra, con le ginocchia al petto, ad ondolarci da un lato all'altro massaggiando la colonna. Trovi il respiro, inspiri dal naso e ispiri dalla bocca. Ok, apri le braccia lateralmente con i palmi verso l'alto, poggia i piedi, i piedi sono aperti quanto il materassino. Troviamo un momento in respiro, ci radichiamo un momento nel corpo, nel respiro e nel momento presente, quindi le ginocchia si toccano, porta le mani sull'ombelico, inspira, si espande e fuori l'aria. Spira, si rilassa, inspira, espira, inspira, espira. Ok, apri le ginocchia e di nuovo apri le braccia lateralmente con i palmi verso l'alto. Ora facciamo twist, inspiri al centro, espiri, scendi con le ginocchia a destra e guarda a sinistra. Torna, inspira al centro, espira, guarda a destra le ginocchia a sinistra, inspira al centro, cambio e espira. Ginocchia a destra, guarda a sinistra, inspira, ginocchia a sinistra, guarda a destra, continua. Ancora un paio di volte. Muoviti con il respiro. E torna, ginocchia al petto. Porta ora le mani dietro la testa. Apri bene i gomiti e sali. E ora, se vuoi rimani qui, ma se riesci, meglio se allunghi le braccia. Andiamo a fare i cento molleggi. Stendi le gambe lateralmente, i talloni si toccano le punte aperte verso l'esterno, inizia. Inspira, 4, 5, espira, 1, 2, 3, 4, 5. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5. Espira, 1, 2, 3, 4, 5. Se hai male al collo, una mano dietro. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5. Espira, 1, 2, 3. 4, 5. Continua. Se preferisci. E al ritmo dei molleggi, l'espirazione. Allunga le braccia, scendi, 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 scendi lentamente. Poggia la testa, allunga le braccia oltre la testa, piedi attivi, inspira, espira, sali, braccia, testa, addome attivo, srotola, sali, allungati, scendi, flessione in avanti. Inspira, una vertebra dopo l'altra, una vertebra dopo l'altra, una vertebra dopo l'altra, braccia, mano indietro oltre la testa, inspira, espira. Sali, una vertebra alla volta, e flessione in avanti, inspira, espira, scendi, srotolando, srotola, srotola, con controllo addome attivo, braccia oltre la testa, inspira. Sali, sali, espira, flessione in avanti, inspira, espira, scendi, una vertebra dopo l'altra, inspira, ancora una volta, sali. Flessione in avanti, inspira, e ancora una volta, scendi, braccia indietro, oltre la testa, mani dietro la testa, sali, sali la gamba destra. Andiamo a fare dei grandi cerchi con la punta del piede destro, prima in un senso, quattro, cinque, se lo vuoi più avanzato, gamba sinistra su, uno. Due, tre, quattro, e cinque, di nuovo sale la gamba sinistra, e prima grandi cerchi in un senso, uno, due, tre, quattro, cinque, cambia il senso, uno, due. Tre, quattro, cinque, rimani, vai con le mani ad afferrare la gamba sinistra, e sali, cammina con le mani, arrivi fino alla caviglia, e cammina con le mani, scendi, scendi, cammina, cammina, sali, sali, allunga la colonna, petto aperto, e scendi, scendi. Inspira, espira, inspira, inspira, espira, scendi, tieni la gamba, sforbiciata, sale la gamba destra, espira, espira, sali, cambio, inspira, espira, espira, Cambio, continuo. L'ultima volta, gamba destra, poggia la gamba sinistra, e sali, cammina, 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 e scendi. Inspira, inspira, espira, inspira, inspira, espira, l'ultima volta, sali, e scendi, porta la gamba destra, testa su, doppia espirazione, sforbiciata, ancora. Inspira, inspira, espira, espira, inspira, espira, espira. E sali. Ora, prendi le ginocchia da sotto, stacca i piedi da terra, rolling like a ball, quindi srotola indietro, inspira, e srotola, sali, espira. Rotola indietro, e sali. Indietro, e sali. Ora, mani dietro la testa, gomiti alle ginocchia, indietro, e sali. Inspira, espira, inspira, espira, senza appoggiare i piedi, inspira, e sali, navasana, stendi le gambe, espira. Ancora un respiro, e scendi, ginocchio al petto, porta il ginocchio al petto, stendi la gamba sinistra, e stendi, e stendi. Piega, e stendi, 5, 4, 3, 2, 1, entrambe le ginocchia, allunga le braccia oltre la testa, e avanti, allunga le braccia oltre la testa, e avanti, allunga le braccia oltre la testa, e chiudi. E stendi, e chiudi, 3, 2, 1, poi già la testa, recupera. Rimani qui, puoi dondolarti da un lato all'altro, fare dei respiri profondi. Lungo e profondo il respiro. Permetti al respiro di farti recuperare. Mentre rimani qui presente, qui dove sei. Mani dietro la testa, sali, stendi le gambe, allunga le braccia, inspira ed espira, continua a molleggiare, se hai male al collo puoi portare una mano dietro per supportare. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, inspira ed espira. L'ultimi venti. E allunga, scendi lentamente, con controllo, poggia, poggia la testa, allunga le braccia oltre la testa, inspira, e roll up. E spira, ti allunghi in avanti, flessione in avanti, inspira, e spira, e spira. Con controllo, inspira, e spira, e spira, ancora, inspira, inizia a salire gambe, testa, braccia, e sali, allunghi in avanti, e inizia a scendere, inspira. Una vertebra dopo l'altra, poi la testa, poi le braccia, inspira, e spira, e spira. Mani dietro la testa, rimani qui, sale la gamba destra, grandi cerchi. Prima in un senso, 2, 3, 4, apri bene i gomiti, 5, e cambia il senso, 1, 2, 3, 4, 5. Poggia, sale la gamba sinistra, grandi cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, e cambio, 1, 2, 3, 4, 5. Gamba su, cammina con le mani, inspira, ed espira, scendi, cammina con le mani, inspira, ed espira, scendi, e sali, 3, e scendi, 4, e scendi, e 5, e scendi. Porta la gamba verso la testa, sali, inspira, ed espira, sforbiciata, inspira, cambio, e espira, e espira. E 2, 1, e gamba destra, poggia la gamba sinistra, e sali, cammina, cammina, e scendi. E sali, inspira, e scendi, e sali, e scendi, ancora uno, e sali, e scendi. Sforbiciata, 5, 4, 3, 2, 1, e sali, roll up, roll down, puoi scegliere di tenere le ginocchia da sotto, o direttamente, mani dietro la testa, gomiti, ginocchia, scendi, inspira, e espira. Non poggiare i piedi, inspira, e espira, e continua. Addome attivo, una vertebra dopo l'altra, scendi, e sali, ancora 3, 2, e 1, sali, primani, navasana, 3 respiri. Prendi il ginocchio sinistro, scendi a terra, inspira, e espira, cambio, inspira, e espira, cambio. Se fa male il collo, poggia la testa, cambio, inspira, 3, 2, 1, mani dietro la testa, ginocchia piegate, puoi stendere le gambe e piegare, altrimenti stendi le gambe, stendi le braccia, inspira, e espira. 5, 4, 3, 2, 1, rimani, e torna. Ginocchia al petto, recupera. Se vuoi ti dondoli da un lato all'altro, puoi vedere respiri lunghi, profondi, ricordati di abbassare il mento, per allungare bene tutta la colonna. E come all'inizio, appoggia le ginocchia, aperte quanto i lati del materassino, apri le braccia, palmi su, le gambe scendono a destra, la testa guarda a sinistra. Quindi respiri profondi qui, se vuoi chiudi gli occhi. Cambia, ancora respiri profondi, cambia a sinistra, testa, guarda la mano destra, occhi chiusi, inspira ed espira. Torna al centro, le ginocchia si toccano, come all'inizio, le mani sull'ombelico. Questa volta respira dal naso, gli occhi sono chiusi. Puoi sentire l'ombelico che si espande e si rilassa, anche se il respiro è più leggero. E se hai piacere, rimani ancora un istante, qualche minuto in questa posizione, il tuo respiro. Altrimenti se vuoi tornare con me, gli giri su un fianco e lezzi lentamente a risalire. Prendiamo tre respiri profondi qui, incrocia le gambe, ho seduto sui talloni, inspira sali e fuori l'aria dalla bocca. Inspira sali e fuori l'aria dalla bocca. E l'ultimo, inspira sali e scendi i palmi uniti davanti al cuore. Grazie per aver praticato insieme a me e ci vediamo nel prossimo video.